Questo mondo del lavoro è l'unico possibile, se ne è parlato ad Andria, in un pubblico incontro promosso da Materia Prima ed Andria Bene in Comune. Prima, durante e dopo la pandemia, scongiurando l'ipotesi di una nuova ondata, ci si interroga su come garantire il lavoro, su come tutelare le imprese e quindi i lavoratori. A confronto Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, e Biagio D'Alberto, segretario generale di CGLBAT. Il lavoro lo possono dare solo le imprese, solo le imprese che grazie al proprio capitano umano, ai propri lavoratori, possono dare ricchezza, per i lavoratori ma per tutto il territorio. Abbiamo necessità di una riforma della pubblica amministrazione e della giustizia, quindi in primis riforme, prima di avere risorse economiche, prima di avere liquidità richiediamo riforme. Riforme anche per esempio per il mondo del lavoro, lo statuto dei lavoratori è stato fatto 50 anni fa, un'altra era geologica. Oggi dobbiamo pensare a delle forme nuove che devono essere condivise tra Confindustria e sindacati, dobbiamo trovare una terza via, una via dove puntiamo soprattutto sulle riforme del mondo del lavoro e io mi auguro che riusciremo con uno spirito nuovo a cogliere queste opportunità. Investimenti nelle infrastrutture, investimenti all'interno dei centri urbani ma anche nelle periferie, nelle aree limitre, dentro un quadro che comunque serve in qualche modo a orientare le nuove risorse che arriveranno sia dal piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche le risorse che arriveranno dai fondi strutturali, oltre che le ulteriori risorse che arriveranno dal punto di vista generale da quelli che sono i cosiddetti fondi ordinari e quindi dentro questo quadro noi dobbiamo essere in grado di essere pronti come territorio a far partire quei progetti che servono sia per irrobustire il sistema produttivo attuale ma anche per innescare processi di diversificazione.